L'offerta per Amadeus è concreta e pone una scadenza imminente. Entro il 30 marzo deve decidere se rimanere con la RAI o accettare l'ambizioso contratto del gruppo Discovery, desideroso di replicare il successo ottenuto con Fabio Fazio. Le voci iniziate con Repubblica trovano conferma sulla pagina di D'Agospia che rivela dettagli importanti. Secondo il portale di Roberto D'Agostino l'offerta del gruppo Discovery non solo offre un cospicuo compenso al conduttore e direttore artistico degli ultimi 5 festival di Sanremo, ma gli garantisce una posizione centrale nel panorama televisivo. Nel caso Amadeus lasciasse la RAI si prospetta un cambiamento significativo nell'ambiente televisivo interno, con il nome di Carlo Conti che emergerebbe come candidato principale per condurre il Festival di Sanremo.